Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi il nuovo video richiesta se ben che tu il tuo video richiesta personalizzato e iscriviti al canale lascia un bel like e iscriviti nei commenti il tuo video richiesta ti ricordo inoltre che puoi partecipare alla creazione di contenuti del canale acquistando qualcosa che trovi nella wishlist di Amazon trovi il link in descrizione del video e incominciamo subito come vedete oggi abbiamo una scopa e un sacchetto di plastica qualsiasi sacchetto di plastica va bene questo perché ho scoperto una cosa che voglio condividere con voi se inseriamo la scopa nel sacchetto di plastica e ora andremo a farlo insieme e andiamo a fare un nodo andiamo a fare un nodo tirando per bene qui così quando andremo a spazzare per terra tutti i peli, tutta la polvere non andrà in giro svolazzando ma rimarrà nel punto in cui l'avete messa voi e quindi è molto più semplice poi andare a raccogliere il tutto come vedete non rimane più giù niente praticamente fa come da come posso dire attira quasi tutti i peli a sé tutta la polvere tutte le schifezze e non lascia niente sul pavimento fatemi sapere se lo sapevate vi mando un bacio e provatelo mi raccomando ciao